Buongiorno, ben trovati. Nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, martedì 16 ottobre 2018. Apriamo, come sempre, con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, il centro, l'edizione di Pescara. Vedete alle mie spalle, eccola qui inquadrata in primo piano. Il titolo principale riguarda i conti del NAIA di sotto inchiesta. Il PM, violazione della legge fallimentare, sequestrati gli atti. E poi vedete a centro pagina, torniamo a parlare della storia a lieto fine del pescatore di Martinsicuro, rimasto in mare per quasi due giorni e salvato nel pomeriggio di domenica. Ecco come sono sopravvissuto dopo 40 ore in mare. Vedete Giovanni Amodio nel suo letto di ospedale a Pescara con la moglie e la madre. Vediamo anche gli altri titoli di spalla. Siamo ovviamente ancora a Pescara, il circolo storico Cannottieri sarà restaurato, al via i lavori per 1.800.000 euro. Tra poco vedremo anche un servizio che abbiamo realizzato ieri. Ancora Pescara, nuovo percorso pedonale sulla riviera sud. Ci spostiamo a Montesilvano, mercato ittico per i pescatori di fuori città. Vediamo anche un altro titolo che riguarda un grave incidente stradale accaduto all'Alba di ieri in provincia di Pescara. Schianto in auto, mamma gravissima, Montebello di Bertona, 37enne di Farindola, esce fuori strada e sbatte contro un albero. Parliamo anche di eventi, quello che ci sarà ad Avezzano con Petty Smith in concerto nella cattedrale della città marsicana. Andiamo nella parte alta della pagina, parliamo delle autostrade abruzzesi, ecco i test sui viadotti consegnati al governo. I piloni sono sicuri e poi il taglio del masterplan abruzzo, i sindaci, il Parlamento modifichi, il decreto e poi la manovra anticipo pensione, quota 100 partirà dal mese di febbraio. Andiamo a vedere la prossima pagina, prima pagina in questo caso del centro, edizione di Chieti, Lanciano, Vasto, la vedete con il titolo di apertura che riguarda i rifiuti, avvisi per 4.000 morosi, Chieti, lotta all'evasione, solleciti da parte della teata e servizi, mancano 2 milioni di euro. Vediamo poi le cronache a Chieti, palestre negate, la federazione italiana Pallavolo scrive alla provincia. E poi spostiamoci più al centro, Ater Lanciano, dopo 11 anni sbloccata la gara per 15 alloggi. E poi ancora Lanciano, calcio amatori, i calendari dei vari campionati, si partirà il 20 ottobre. E poi parliamo anche di occupazione della BAL, rabbia e disperazione, i cancelli della fabbrica di San Martino sulla Marucina. Chiude l'azienda specializzata nella fabbrica, nella costruzione di lattine, i sindacati alternative. A questa fine, la richiesta dei sindacati. Vediamo anche la prima pagina del centro, edizione di Teramo. Ho lottato per restare vivo, parla il pescatore di Martinsicuno, che troviamo anche ovviamente sull'edizione di Teramo del centro. Il pescatore è salvato dopo due giorni in mare, davvero un miracolo. E parliamo anche di calcio, perché quella di ieri è stata una giornata dell'ennesimo ribaltone in casa Teramo, perché il patrono Luciano Campitelli ha esonerato il tecnico Giovanni Zichella. Al suo posto arriva Maurizio, il tecnico di Colleferro, che esordirà già domani nel turno infrasettimanale di campionato, quando alle 18.30 i biancorossi ospiteranno al Bonolis, il Fano guidato dal pescarese Massimo Epifani. Vediamo le cronache. Va a giudizio a 96 anni, non si procede il caso riguarda una donna di Teramo. E poi, poste, parte il recapito a giorni alterni in provincia da lunedì. E poi una buona notizia che riguarda la sanità, tumore in calo nella provincia teramana. Vediamo anche altre notizie. In questo caso ci spostiamo sulla costa a Pineto, arrestato marito violento, ha violato il divieto di avvicinamento alla moglie e disposto a giugno dal giudice. Vediamo anche la pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, sempre dalle colonne del centro. E scontro tra il sindaco dell'Aquila Biondi e Action Hide, l'Aquila Festival della partecipazione. Il sindaco non è vero che il comune è assente. Vediamo anche le altre notizie. Ci spostiamo nella Marsica, Avezzano, alla Lifoundry, 18 mesi con orari di lavoro ridotti per gli operai. E poi l'Aquila, Verdeacqua, il gestore lascia dopo 33 anni. Dall'Aquila ci spostiamo in Valle Peligna, a Sulmona, movita violenta, controllati. 100 giovani. Torniamo nella Marsica, perché un pugile è stato arrestato per tentato omicidio. Marsicano specializzato nella lotta in gabbia a coltella e riduce in fin di vita. Un 42enne. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano, la città di Teramo. Tanti gli argomenti in primo piano che poi ritroveremo all'interno del giornale. Titolo di apertura. A rischio progetti con i migranti, Teramo potrebbe perdere la possibilità di affidare i controlli e il Verde a causa del decreto sicurezza. Andiamo in alto, vediamo altri richiami di argomenti all'interno del giornale. Giuliano Valido delle Palme nelle mani del commissario. E poi Pineto, marito violento, finisce in manette. E poi ad Alba Adriatica, la notte di violenza di due giorni fa, si cerca la scintilla che ha scatenato la rissa. E poi ovviamente anche sul quotidiano la città, vedete il diavolo cambia ancora. Maurizzi chiamato al posto dell'esonerato Zichella, lo vedete in questa foto di gruppo con i due direttori. Il direttore sportivo Sandro Federico, il direttore generale Capaldi. Vediamo le altre notizie, ruba energia con l'allaccio abusivo, Furbetto finisce a processo con l'accusa di furto aggravato. E poi Teramana nei guai per la truffa con le auto, poi vedremo anche in questo caso un servizio. E poi Roseto, amministrazione di Girolamo a fine corsa, leggiamo in questo titolo del quotidiano. La città, l'ultimo titolo lo troviamo di taglio basso, Teramo, Piazza Sant'Anna, chiede al sindaco, maggiore attenzione. Lasciamo dunque i quotidiani abruzzesi con le prime pagine. Siamo al Corriere della Sera per vedere l'edicola nazionale. Il quotidiano milanese che apre con condono e pensioni. C'è infatti il via, tagli agli assegni per oltre 4.500 euro, reddito di cittadinanza. Entro marzo la manovra, il sito del governo, quota 100 da febbraio. Pace fiscale fino a 100.000 euro. Evasi, vediamo anche un titolo più in basso che ci porta alla cronaca a Brescia, travolta da un'auto fuori controllo mentre beve il caffè, la morte per caso al tavolino del bar. Questa tragedia accaduta in un bar di Brescia. E poi migranti scaricati in Piemonte, le accuse a Parigi. Lo scontro, i gendarmi passano il confine, polemica a distanza tra Italia e Francia. Vediamo anche il quotidiano. La Repubblica condono pensioni, reddito, ecco l'accordo sulla manovra. Spedito a Bruxelles il piano fuori dai vincoli dell'Unione Europea. Vince la Lega, salta il taglio agli assegni d'oro. E poi, vedete, a centropagina un richiamo più che mai doveroso al miracolo del volley azzurro in chiave femminile, mondiale di pallavolo. Va in semifinale la bella Italia che si tiene per mano. 10 vittorie consecutive per le azzurre. Vediamo il fatto quotidiano. La Francia ci invade ancora. Nuovo sconfinamento a Clavier Torino. Moavero chiede spiegazioni al presidente francese Macron. Vediamo poi a centropagina la manovra. Vince il Movimento 5 Stelle. Condonino, manette agli evasori e taglio delle pensioni d'oro. Andiamo a vedere anche il quotidiano libero. L'influenza costa più della manovra. Una botta da 250 euro a famiglia. Il virus che dilanga in questi giorni brucia 11 miliardi. La sanità pubblica spende 62 euro a malato. Vediamo anche in basso l'altro titolo che riguarda invece l'economia. L'accordo nel governo tagli alle pensioni sopra i 4.500 netti. Condono fino a 100.000 euro. Stralciate le cartelle fiscali sotto i 1.000 in galera. Chi evade? Vediamo la prima pagina del messaggero nazionale. Parte la sanatoria fiscale. Pensioni uscita a febbraio. E poi a scuola a tre anni si impara di più la rincorsa dell'Italia. Questo è l'altro titolo. Vediamo anche il quotidiano, il giornale di Milano. Fregatura, il condonino. La Lega cede ai grillini. Mini sanatoria con tetto ridotto a 100.000 euro. Nella legge di bilancio c'è il taglio da oltre un miliardo alle pensioni. Vediamo anche il quotidiano napoletano il mattino. Anticipata la pensione sia la sanatoria fiscale, la manovra a Bruxelles, via dal lavoro già a 62 anni. La riforma partirà a febbraio. Tasse non pagate, sconto con alicota del 20%. Cancellate le cartelle. Fino a 1.000 euro. E poi anche sul quotidiano mattino si parla di integrazione con questa notizia. La vedete il presidente che caccia il capitano. La squadra si rifiuta di giocare. Candidata per Salvini ma voglio giocare. Le ragazze dell'Afro Napoli sono con me un nodo integrazione, un po' al contrario in questo caso. Vedete la foto delle ragazze che hanno indotto il capitano a fare marcia indietro. Vediamo anche il quotidiano La Verità. La fornera aumenta i disoccupati, così parlava il presidente dell'Inps. Quanti boeri ci sono? Questa è la domanda che si fa il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Poi vedete a centro pagina. Ho messo all'asta Matteo Renzi. Lo vogliono soltanto arabi e cinesi. Questo articolo un po' con questo titolo ironico che riguarda l'ex presidente del Consiglio. Andiamo a vedere anche il quotidiano economico. Il sole 24 ore, via libera alla manovra, accordo al photo finish, approvati i decreti sul fisco e semplificazioni. E poi intesa governo regioni, sbloccati investimenti per 4,2 miliardi di euro. Vediamo anche il manifesto. Gli sbandati. Vedete il titolo a tutta pagina in grande. I vice premier, li vedete Di Maio e Salvini, litigano e giocano a nascondino per tutto il giorno, non presentandosi al vertice di maggioranza. Poi dopo un lungo braccio di ferro, come leggiamo qui dal quotidiano, il manifesto. Dopo un lungo braccio di ferro il governo approva la manovra pace fiscale, ma con il tetto. Meno soldi dalle pensioni d'oro. Taglio ai fondi per i profughi. E poi c'è un'intervista del manifesto al sindaco di Riace, Domenico Lucano, lo Sprar di Riace. Dice che sarà autogestito il sindaco di Riace, lo ricordiamo, Mim Lucano, e da giorni agli arresti domiciliari proprio a Riace. Vediamo anche il prossimo quotidiano, che è la stampa di Torino, via libera al condono pensioni. A febbraio scatterà quota 100. E poi Francia, la polizia porta di nascosto i migranti in Italia, Clavier, Parigi, ammette. E poi vedete anche sul quotidiano torinese, dal volle al calcio, la rivincita del talento. Fa felice lo sport, in questo caso dopo la vittoria degli azzurri in Polonia. Ci sono le azzurre del volley che, battendo il Giappone, sono arrivate alle semifinali dei mondiali di pallavolo. Dieci vittorie consecutive per le azzurre, sempre vittoriose. Siamo al tempo e condono sia, multe fino a 1.000 euro e redditi non dichiarati fino a 100.000. Arriva la sanatoria, Salvini esulta, Di Maio costretto alla giravolta. Da febbraio in pensione, ha 62 anni il secolo d'Italia, arriva la tempesta. L'analisi del voto fatto da Giorgia Meloni parte dalla Baviera per cogliere il senso di un clima profondamente mutato. La destra sovranista cresce. Appuntamento a maggio. Le elezioni anche nella regione tedesca della Baviera hanno messo in evidenza il passo in avanti delle forze sovraniste. Vediamo anche il quotidiano genovese. Il secolo XIX, ponte, sei proposte sul tavolo di Bucci e autostrade rilancia. Inchiesta, segnalati i nomi di altri 40 tecnici in servizio dal 92 ad oggi. Antitrust, faro sulle dichiarazioni del governo. Ipotesi turbativa di mercato e poi accordo sul condono e per le pensioni a quota 100 da febbraio. Intesa Lega, Movimento 5 Stelle, assegni d'oro, tagli sopra i 4.500 euro. Vediamo anche il quotidiano della conferenza episcopale italiana a venire. Pensioni e reddito, condono più stretto, varata la manovra dopo le tensioni del Movimento 5 Stelle, Lega. E poi vediamo più in basso questa notizia che riguarda il miracolo essere qui al Sinodo. Abbiamo invitato il Papa in Cina. Parlano i due vescovi di Pechino dopo un avvicinamento sostanziale tra la Santa Sede, proprio il governo cinese, sulla nomina dei vescovi. Lasciamo dunque con avvenire l'edicola nazionale. Possiamo tornare sulle pagine del centro per ripartire da pagina 2, per parlare ancora delle nostre autostrade. A 24 a 25, strada dei parchi, viadotti sono sicuri. Ecco la perizia consegnata al Ministero. Il test di una società specializzata certifica la resistenza dei piloni. Viaggio tra Bugnara e Bussi, siamo al confine tra le province dell'Aquila e Pescara, cemento e dissuasori sotto la sede stradale. Nel giro di dieci anni, dall'ok al piano economico finanziario, saranno messi a norma tutti i viadotti. La spesa prevista è di 2 miliardi di euro. Vedete poi l'altra pagina, pagina 3, sempre dedicata allo stesso argomento. Pier Boni, dopo i lavori le pile resisteranno a forti terremoti. Attualmente l'autostrada, dal punto di vista del normale esercizio, con le opere già realizzate, ha un indice di sicurezza maggiore rispetto ad un anno fa. Lo dice l'ingegner Luigi Pier Boni, che è responsabile della direzione lavori per la messa in sicurezza di A24 e A25. E il vicepresidente di strada dei parchi Fabris, dice Toninelli, ha annunciato i fondi, ma non sono arrivati. Andiamo a vedere anche qualche titolo che riguarda la pagina nazionale. Ecco la manovra tregua sul fisco, riforma pensioni in quota 100 in vigore da febbraio. E poi alta tensione nel governo, duello anche su Tria e Rai. La partita ora proseguirà sui testi, ma tanti ancora i punti di attrito tra i due, che sono Di Maio e Salvini. Per quanto riguarda la vicenda del ministro Tria, criticato spesso da Di Maio, e per le nomine in Rai. Poi anche in basso ritroviamo la vicenda dello scontro sui migranti con la Francia, gendarmi francesi ripresi dalla Digos, mentre riportano persone in Italia. E intanto per l'Europa e per l'Unione Europea sono ore cruciali. Per la Brexit i rischi dell'ultimo metro. E poi ne parlavamo prima, il voto che scuote è Berlino, ma la Merkel tira dritto, perché abbiamo detto, l'abbiamo letto anche dai giornali prima, nel corso dell'edicola nazionale vanno avanti i partiti sovranisti, ma in Germania l'onda verde si allunga sull'Europa, perché l'avanzata degli ambientalisti scalza i socialdemocratici, non solo in Germania. E poi colpo basso di Trump a Putin, forse coinvolto in assassini e avvelenamenti, ma per il Taikon il problema più grande è la Cina. Andiamo a vedere ora le pagine che riguardano la cronaca dalla nostra regione. Siamo alla pagina che riguarda l'Abruzzo, il caso del Masterplan Abruzzo, i sindaci, il Parlamento, cancelli il taglio. Questa è la richiesta dei primi cittadini abruzzesi. All'Aquila Assemblea contro lo storno di 250 milioni dalla regione all'autostrada, i 5 Stelle, il decreto, dicono, sarà corretto. E intanto si continua a parlare di elezioni nella nostra regione, in vista delle regionali che ci saranno a febbraio, vertice di Fratelli d'Italia per la rosa definitiva. Ricordiamo che il tavolo romano di qualche settimana fa diede il via libera proprio a Fratelli d'Italia per l'indicazione del candidato presidente della regione per il centro-destra. E oggi ci sarà il comitato abruzzese di Fratelli d'Italia. Giovedì l'incontro a Roma con la leader, con il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. E parliamo di salute, parliamo di salute con il rapporto che riguarda i tumori in provincia di Teramo, in questo caso tumori in calo, 1.811 casi nella provincia di Teramo. Nel 2017 sono stati 99 in meno rispetto all'attesa alta l'incidenza di cancro allo stomaco e alle vie urinarie. Lo studio è stato stilato dall'Agenzia Sanitaria Regionale. Vediamo anche più in basso, si parla ancora di sanità, in questo caso in chiave occupazione, operatori sociosanitari 390 nuovi posti. Il personale sarà distribuito nelle quattro asla abruzzesi, corsi di formazione al via dal prossimo anno. Andiamo a vedere poi le cronache dalle province. Partiamo da Pescara, dalla storia a lieto fine del pescatore di Martinsicuro. Ho rimasto in mare per oltre 40 ore, ho lottato, non volevo morire, parla il 35enne abruzzese, soccorso a largo di Pescara. Ho patito freddo e sete, il pensiero di mio figlio di sei anni mi ha salvato. Il primario è disidatrato, ma miglioramo di un cura all'ospedale di Pescara. Tra qualche giorno ci saranno le dimissioni e intanto la Capitaneria spiega anche le motivazioni di questo, che è stato un vero e proprio miracolo, salvo perché aveva con sé le dotazioni di bordo di quando si va in mare. Siamo a pagina 14 del quotidiano Il Centro. L'impianto sportivo nel Mirino, la procura di Pescara indaga sui conti dell'Enaia di aperto un fascicolo per violazione della legge fallimentare. La finanza sequestra i documenti giallo su 750 mila euro. Questo è il titolo di apertura del quotidiano Il Centro. E domani al massimo ci sarà un convegno con uno spettacolo per parlare della problematica, purtroppo sempre attuale, della violenza contro le donne. Parliamo anche di giudiziaria. Spadaccini, processo cancellato dal tempo, maxi evasione fiscale da 90 milioni. La prescrizione fa sfumare tutti i reati contestati. Andiamo a vedere la prossima pagina, pagina 15. Viale Primovere la proposta, un percorso pedonale di fronte al mare. Il consorzio guidato da Sandrolemme lancia l'idea di un tracciato ecocompatibile davanti ai Lidi, da Piazza Lelaudi verso sud. Siamo proprio nella zona del lungomare sud di Pescara. E a Pescara, comunque nella Polizia di Stato, sono pronti i rinforzi perché la scuola Polgai di Via Salaravecchia forma nuovi agenti della Polizia di Stato. Giovedì ci sarà il giuramento di questi nuovi 90 agenti. Andiamo a vedere poi la prossima pagina che riguarda il circolo canottieri La Pescara che risorgerà nel 2020. L'edificio storico sul lungo fiume, presentato il progetto per il restauro della Pescarina. 1.800.000 euro di lavori il cantiere. Entro tre mesi un circolo storico, quello di Pescara, dove si allenava da giovane anche Gabriele D'Annunzio. Allora possiamo andare a vedere il primo servizio proprio sulla presentazione dei lavorieri alla presenza del sottosegretario di governo ai beni culturali Gianluca Vacca. Vediamo. Sottosegretario Vacca oggi a Pescara per l'inaugurazione di questi lavori in una zona importante della città, un circolo canottieri storico del capologo adriatico che riguarda anche il Molo Nord, la Golena Nord di Pescara. Esattamente, questi sono degli elementi identitari più forti della città, sia dal punto di vista architettonico, parliamo di architettura razionalista, quindi uno degli elementi identitari più forti della città perché le cose dal punto di vista architettonico più rilevanti a Pescara sono di fino a 800, inizi a 900, quindi fanno parte proprio di quel momento storico e anche dal punto di vista simbolico, l'importante dal punto di vista simbolico perché è una delle società sportive più antiche d'Abruzzo, è uno dei luoghi ai quali i pescari sono più affezionati e quindi riqualificarlo va proprio nella direzione di recuperare, valorizzare tutti quegli elementi identitari e architettonici importanti della nostra città. In questo purtroppo l'amministrazione locale non è sempre attenta e c'è un lavoro della sovrintendenza che invece sta mettendo attraverso alcuni strumenti degli riconoscimenti importanti proprio che vanno nella direzione di valorizzare questi luoghi, quindi è importante ripartire da queste realtà proprio per rilanciare l'immagine della città nel nostro paese. Da pochi mesi al governo, lei da sottosegretario ovviamente ha un occhio privilegiato per la nostra regione, c'è tanto da fare nel recupero di quei pezzi di storia della nostra regione che sono stati un po' messi da parte, anche colpevolmente? Assolutamente sì, l'Abruzzo da questo punto di vista ha delle potenzialità straordinarie che purtroppo per quanto riguarda la cultura, la valorizzazione del nostro paesaggio, la valorizzazione delle nostre ricchezze è stato fatto ben poco in passato, quindi la mia intenzione è lavorare su questo, abbiamo fatto un'assemblea pubblica la settimana scorsa proprio anche per relazionare i nostri primi 100 giorni al governo e mi è sembrato importante continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto, cioè incontrare i cittadini e spiegare quello che facciamo, l'abbiamo fatto prima quando eravamo parlamentari di opposizione e continuiamo a farlo anche adesso che stiamo al governo, è stata un'assemblea molto partecipata con centinaia di persone che sono venute ad ascoltarci e noi abbiamo spiegato proprio questo, dobbiamo ripartire dalle nostre ricchezze e del nostro straordinario patrimonio, c'è tanto in Abruzzo da fare e noi inizieremo a lavorarci. Proseguiamo, Pesco Sanzonesco in festa, siamo in provincia di Pescara, poche ore dalla santificazione del Beato Nunzio sul Prizio, domenica ci sarà la prima processione dopo la messa a corteo per le vie del paese con banda e fuochi. A novembre il Vescovo deporrà l'Aureola nell'urna San Paolo VI, scrisse dal Lager, Ermano Parete sta bene un po' da Abruzzo anche con l'altro santo proclamato domenica scorsa da Papa Francesco, il San Paolo VI, che parlò di Ermano Parete, l'abruzzese rinchiuso nel Lager nazista. Andiamo a vedere anche, pagina 19, allarme disperati, senza tetto in stazione, siamo a Pescara, un piano per ospitarli nei mesi invernali. Andiamo a vedere anche la prossima pagina che ci porta a Montesilvano, il piano di rilancio, passa anche per il mercato ittico aperto ai pescatori di fuori città, giovedì in Consiglio Comunale il nuovo regolamento sulla struttura del lungomare, l'obiettivo è riempire tutti gli spazi e incentivare il commercio del pesce. E intanto servizio rifiuti, cresce la raccolta differenziata, ora centri al Colle e in via Nilo, e poi in basso allarme di carrozzine determinate, assistenza domiciliare, il servizio è insufficiente. Siamo alla pagina della provincia di Pescara, in alto si parla del concerto che si terrà a spoltore presso la società operaia. E poi Città Sant'Angelo parte la corsa ai contributi per i danni del maltempo, c'è tempo fino al 24 ottobre per integrare le domande. E poi le case abruzzesi nel mirino americano, convention con il sindaco di Città Sant'Angelo Florinti, esperti di turismo e investitori immobiliari, dopo l'espoir proprio di Città Sant'Angelo, località della provincia di Pescara, che tutti conoscono, indicata da Forbis come una delle dieci più belle al mondo. E parliamo ora della maestra scomparsa di Miracancelli, Cepagatti, progetto per la valorizzazione dei murales di Miracancelli. Ci spostiamo nella parte bassa della pagina, tornando a Montesilvano, dove si parla anche di amministrativa, il centro-sinistra sceglie il candidato sindaco, tracciato l'identikit e poi, versa 3.000 euro a un falso avvocato, cliente raggirato a gennaio. Il processo. Siamo a Francavilla, ecco i fondi per l'assistenza ai disabili, presentato il progetto Family Care per aiutare i familiari di persone in difficoltà, voucher fino a 300 euro al mese per un anno, pronto l'avviso pubblico. Questo è un progetto integrato che vede al fianco tre comuni, Chieti, Francavilla al mare. E Guardia Grele, ieri la conferenza stampa a Francavilla, possiamo andare a vedere anche in questo caso il servizio. Progetto importante, la Regione ha erogato al nostro partenariato 318.000 euro, un sostegno che però va a una particolare categoria di utenti, quindi il familiare del disabile, quindi il cosiddetto caregiver che ha perso il lavoro o lo ha dovuto lasciare proprio per dedicarsi alle attività di cura. Lo sosteniamo con un voucher che lui può spendere in servizi e anche con un corso di formazione che andrà finalmente a certificare la loro professionalità, quindi il caregiver diventa assistente familiare grazie a un corso di formazione. La progettazione insieme è diventata fondamentale per avere anche importanza poi quando deve essere aggiudicato un progetto. Quindi il Comune di Guardia Grele caprofilla del nostro ambito di 11 comuni, vuole dare la possibilità alle persone che hanno dovuto lasciare il lavoro di avere un appoggio. A Guardia Grele abbiamo uno dei casi più conosciuti a livello purtroppo anche mediatico e da quello vogliamo partire per andare poi nei casi quelli che invece rimangono più sconosciuti ma che comunque esistono e sono molti. Andiamo avanti, una serie di incontri previsti a Cepagatti nei prossimi giorni, tra questi quello con il vaticanista Saverio Gaeta che sarà prima a Cepagatti e poi a San Giovanni Teatino. Andiamo a centropagina, Francavilla, il premio Mumi fa il tutto esaurito, entusiasmo alle stelle per Cerlino, riconoscimento per Ada Manes. E poi in basso si parla di equitazione, Francavilla festeggia Diana Victoria, Francavillese doc, campionessa a 11 anni di equitazione. Andiamo avanti, siamo alla pagina dell'Alaria Vestina e dell'Alta Val Pescara, incidente stradale all'alba di ieri a Montebello di Bertona, madre di due bimbi grave. Dopo lo schianto è finita con un'auto che era condotta proprio dalla donna contro un albero, forse a causa della pioggia. La donna ha perso il controllo del mezzo finendo fuoristrada e ricoverata in rianimazione all'ospedale di Pescara. Partecipate pennesi, via al processo, quattro imputati. E poi Rocca Morice, a 89 anni, accoltella il nipote, denunciato, lite per questioni di soldi. E poi in basso, a popoli, l'Avis e emergenza sangue. Troppo pochi i donatori. Appello del presidente dell'Avis, Mario Cerasoli, per trovare donatori. E poi tocco da Casauri, a convegno su enti ecclesiastici e sociale. Andiamo ancora avanti, siamo a Chieti, dove è partita la lotta all'evasione fiscale. Tari, in arrivo 4.000 avvisi di pagamento, tassa su rifiuti. Partono oggi i solleciti amorosi. Il Comune deve incassare oltre 2 milioni di euro. Andiamo a vedere poi a centropagina. Soldi ai consiglieri comunali solo dopo metà seduta. Stop ai gettoni di presenza, nuovo regolamento dopo 13 anni e tre amministrazioni comunali. Allora lasciamo la pagina di Chieti. Possiamo fermarci a questo punto anche per qualche istante. Andiamo a vedere le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi, come sempre, torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne del quotidiano Il Centro. Parliamo di occupazione, la bal verso la chiusura, la rabbia degli operai. Vedete il titolo di apertura di pagina 27. San Martino sulla Marrucina. Siamo in provincia di Chieti. Delusione e amarezza tra i 70 lavoratori e cancelli. Delutis della Cigelle e di Camillo della Cisle. Cerchiamo soluzioni alternative. A questa fine, il sindaco di Roccamontepiano Carulli dice un altro duro colpo dopo la Lazzaroni. In basso, palestre negate, accuse alla provincia Chieti. Partite del campionato di volley vietate nelle scuole, società e federazione volley. Dicono siamo alla paralisi. Siamo alla pagina, un'altra pagina, che riguarda la provincia di Chieti. Ci spostiamo ad Ortona, a Puzza, nell'area artigianale, indagini della Capitaneria. E poi Rocca San Giovanni, in prognosi riservata, 85enne pescarese, caduto dall'albero. E poi Attollo, il nipote di Trilussa, presenta il suo libro, alleno museo. E poi Ortona, sistemata alla frana, sulla strada provinciale, ultimati lavori sull'arteria che conduce da Ortona a Attollo, interessata nelle scorse settimane da uno smottamento. Proseguiamo, ci spostiamo a Teramo, va a giudizio a 96 anni, ma non si procede caso limite in tribunale. Anziana, malata di Alzheimer, accusata di falsità ideologica per il giudice, ha un'età così avanzata che non può guarire. Poi ci spostiamo ad Alba Adriatica, oggi in carcere, l'interrogatorio dell'uomo che ha sparato davanti all'hotel. Pignorata l'assicurazione che non paga il caso dopo la sentenza con cui una società è stata condannata a risarcire una donna per un incidente. E la grande festa per i dieci anni di Rurabilandia, la fattoria sociale di Atri. Ci spostiamo a Teramo, restiamo tra Teramo e la provincia. Poste parte il recapito a giorni alterni. Dal 22 il via al progetto in tutta la provincia, i portalettere lavoreranno fino alle 21. La CISL chiede turni non troppo gravosi. E oggi l'addio alla giovane motociclista morto a Villapetto, nell'abbazia di Lonzano, i funerali del 21enne, finito contro un muro. E poi il randaggismo costoso servono adozioni. Il sindaco di Teramo, Gianguido d'Alberto, incontra le associazioni animaliste e indica le misure per contenere il fenomeno. Siamo a Pineto, marito violento arrestato. Un uomo di 33 anni viola il divieto di avvicinamento imposto dal giudice dopo aver puntato un coltello alla gola della moglie. Silvi, protesta dei residenti in degrado, la fontana di piazza Marconi. E poi Notaresco può salvare la sede IMSS di Atri. Se passa dal bacino di utenza di Giulianova a quello a Triano, si può evitare la chiusura dell'ufficio. In basso siamo a Pineto, polemica politica sulle lavagne interattive. E poi iniziati i lavori nel parco Costa del Sol, sempre a Pineto. Da Pineto ci spostiamo invece all'Aquila per la polemica che riguarda il festival della partecipazione. Il sindaco Biondi attacca, hanno preso molti soldi. Replica le accuse di Action Hide, poco supporto dal comune. Voglio sapere che ricaduta all'evento sulla città, ha detto il primo cittadino. In basso si parla dell'ex UTR, a tempo indeterminato ma a scadenza i 72 lavoratori degli uffici della ricostruzione lanciano un appello a Di Maio per sanare la loro posizione. Ieri vi avevamo proposto un servizio su questa vicenda nel corso del TG6. Siamo ad Avezzano, tentato omicidio, accoltellato per uno sguardo di troppo, arrestato a Roma un pugile marsicano specializzato nella lotta in gabbia. Il fendente ha sfiorato il cuore di un 42enne, poi Villa Vallelonga, due escursionisti soccorsi e salvati dai vigili del fuoco. E poi Avezzano adescava pensionati per derubarli dai portafogli, denunciata una 34enne proveniente da un campo rom. E poi Orsomario scorribanda al luco dei Marsi, passeggiata in centro e incursioni in alcune stalle di periferia. Andiamo ancora avanti, siamo a Sulmona, lo sballo del sabato sera, movida violenta in centro, identificati 100 giovani. E poi esenzione del ticket, l'ASL richiede un euro, Sulmona nella raccomandata una disoccupata, previsti anche 7 euro per le spese postali. Questa è la vicenda venuta alla luce a Sulmona. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo passare al quotidiano Teramano La Città. Il caso Masterplan, istituzioni riunite per evitare lo scippo. Parlamentari, sindaci, consiglieri regionali e amministratori ieri hanno risposto all'invito del presidente Lolli. E poi Lanciano porta la droga al marito in carcere, condannata a due anni e quattro mesi, con il rito abbreviato. Andiamo a vedere un'altra pagina del quotidiano La Città, rischio e progetti con i richiedenti asilo. Siamo a Teramo, potrebbe perdere proprio il capologo Plutino l'opportunità di utilizzare i migranti per la custodia della villa e per la cura del verde pubblico. Sanità, tavolo regionale per discutere del caso dei 191 dipendenti a rischio. Il direttore amministrativo di Giosia ha ribadito che l'ASL farà di tutto per salvare il personale a tempo determinato. Piazza Sant'Anna chiede più attenzione. Siamo a Teramo, incontro con gli amministratori per chiedere decoro, recupero della storica piazza cittadina e maggiore sicurezza. Andiamo a vedere anche pagina 7, Teramana nei guai per la truffa con le auto, quattro indagati e sequestri per 500 mila euro in due province da parte della Guardia di Finanza dell'Aquila. Allora possiamo andare a vedere il servizio su questa vicenda curato da Daniele Rosone. I finanziari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza dell'Aquila hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie di beni immobili per un valore di circa 550 mila euro emesso dall'autorità giudiziaria locale nei confronti di responsabili di un'articolata truffa nel settore degli acquisti intracomunitari di automobili. La misura cautelare appena eseguita giunge al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria delegata dal sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila la dottoressa Ciccarelli che ha consentito di individuare quattro responsabili indagati per i reali di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa da privato e truffa aggravata ai danni dello Stato. In particolare un uomo classe 84 CL iniziali ponendosi quale mediatore nell'acquisto di autovetture tra privati e società comunitarie mediante la presentazione di falsa documentazione tra cui autocertificazione a firma dignari acquirenti e modelli di pagamento F4 contraffatti e soprattutto con la compiacenza di due agenzie di pratiche auto operanti all'Aquila nel Terramano gestite da altre persone è riuscito, sottraendosi così al sistema informatizzato dei controlli previsti per le vetture di provenienza comunitaria a ottenere l'indebita immatricolazione in Italia di 88 vetture di importazione comunitaria. L'artefice della truffa in questo modo ha intascato dagli ignari acquirenti l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle citate autovetture per un importo complessivo pari a 551.000 euro circa, senza però avversarla nelle casse dell'erario. La Guardia di Finanza ogni giorno opera in questo modo per contrastare le frodi fiscali che come è noto alterano le regole del mercato e danneggiano i cittadini ma anche gli imprenditori onesti. Lasciamo la cronaca, D'Alberto sposa l'idea dello store di prodotti tipici, incontro con il Presidente, siamo ancora a Terramo, Confesercenti, Gianluca Grimi che ha lanciato la proposta per la riconversione dell'Ipersimpli, Camera di Commercio, nuove risorse per le imprese danneggiate dalle nevicate. E poi andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta in provincia per l'ultimo saluto a Guido a Santa Maria di Ronzano, questo pomeriggio alle 15 i funerali del ragazzo di 21 anni morto domenica nello schianto in moto a Villapetto di Colledara. Il centro d'archivio festeggia facendo un regalo ai pazienti, 20 anni di attività, buono sconto del 30% per chi effettuerà esami questa settimana per l'importante ricorrenza. Torniamo alla cronaca, ruba energia a Enel con l'allaccio abusivo, furbetto 50enne, finisce a processo. Siamo in Val Vibrata, Tortoreto, azienda di Tortoreto protagonista, la regata più grande del mondo, la Barcolana. E poi al Badriatica si cerca la scintilla che ha scatenato la rissa dell'ultimo weekend. E poi torniamo alla vicenda di Giovanni Amodio, il marittimo di Martinsicuro, rimasto per 40 ore in mare dopo il ribaltamento della sua barca, è salvato a Pescara domenica pomeriggio. Siamo a Giulianova, l'ido delle palme nelle mani del commissario, il sindaco di Missionario aveva assicurato un'approvazione mai arrivata. Andiamo a vedere poi di spalla il comitato Lido, siamo sempre a Giulianova, si riunisce dopo i nuovi ingressi nel direttivo. E poi, degrado e sporcizia assediano ancora Palazzo Massei, la zona ricettacolo di mondizie e rifiuti ingombranti, nonostante le numerose segnalazioni. Ci spostiamo un po' più a sud, andiamo a Pineto. La cronaca tenta di soffocarla e rirompe il naso contro il lavandino, marito violento in manette. E poi la politica, siamo a Roseto degli Abruzzi, governo di Girolamo a fine corsa per l'ex sindaco Pavone, una parte della maggioranza sta prendendo le distanze dal sindaco. E poi ad Atri, la salvezza della sede IMSS passa per Notaresco, abbiamo visto questa notizia prima anche sul centro, incontro tra sindaco e direttrice sul passaggio del territorio nel bacino della città ducale. Pagina della cultura, giornate fai, autunno luminoso, successo per il percorso Domus e dimore storiche della delegazione di Teramo. Allora possiamo lasciare le pagine interne del quotidiano La Città, passare allo sport per l'ultima parte di mattino 6 e partire dai quotidiani sportivi nazionali con le loro prime pagine. Il Z dello Sport, il primo piano è dedicato al derby della Madonnina, domenica prossima infatti si gioca Inter Milan, è un derby che supera il miliardo, il valore delle due rose arriva a 1177 milioni, più ricca quella nera azzurra, ma il monte ingaggi. Dice Milan, Suning ed Elliot, patrimoni a confronto e poi l'Italia che vola e l'Italia delle volley. Ragazze azzurre in semifinale fanno 10 su 10 con il brivido Olanda o Cina per arrivare a medaglie. Il Corriere dello Sport, tutti sul carro, l'Inter studia a Biraghi da scarto a obiettivo, Pliatec lo compro io, De Laurentiis scatenato vuole l'attaccante del Genoa. A proposito di Biraghi, una piccola postilla, la possiamo sicuramente fare perché forse molti di voi ricorderanno che Cristiano Biraghi è stato fino a due anni fa giocatore del Pescara nella sfortunata stagione poi che portò alla retrocessione dei Biancazzurri in Serie B. Juve, c'è De Leit, il difensore olandese, obiettivo bianconero e poi Paola schiacciatutto, la giocatrice azzurra tra le protagoniste del cammino da record della nazionale femminile di volley. Andiamo a vedere le pagine dello Sport del centro, i 120 anni della FIGICI, Gli azzurri al Quirinale, gli azzurri del calcio proprio a poche ore dalla vittoria con la Polonia. E poi Mondiali, Egonu trascina l'Italvolle in semifinale, decimo successo per le azzurre che eliminano il Giappone. Siamo al calcio, alla Serie B e dunque al Pescara. Il Pescara che riesce a stupire grazie alla vecchia guardia. Quasi tutti i protagonisti dell'ascesa al primo posto in classifica sono reduci dalla passata stagione chiusa con la salvezza all'ultima di campionato. Intanto la squadra è già a lavoro per preparare la gara di venerdì alla Spezia. Monachello torna in gruppo domani la partenza anticipata. Pescara che si allenerà giovedì a Coverciano e poi ci sarà lo spostamento in Liguria. Pescara Marino, questa squadra ricorda quella del 1992, l'ex direttore generale del Pescara a Costa del Delfino di Pilona, quello di Galeone. Mancuso trascinatore, Macin, destinato alla Serie A. Abbiamo ascoltato anche l'intervista del nostro Andrea Costantini a Pierpaolo Marino. Nei giorni scorsi, se ne è parlato anche ieri sera nel corso della trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi. Intanto la Lega ha reso note le variazioni, le giornate di gara che non si giocheranno al sabato. Per il Pescara tanti anticipi e posticipi perché per esempio Pescara-Ascoli, l'attesa sfida con i marchigiani, si giocherà di domenica ma sono tanti gli spostamenti di gare. Siamo alla pagina della Serie C perché è quella di ieri, come dicevamo in apertura di questo appuntamento con Mattino 6, è stata la giornata dell'ennesimo ribaltone in Casa Teramo, Campitelli avanti un altro, via Zichella arriva Maurizzi. Domenica ribadita la fiducia, domenica scorsa l'allenatore, ieri mattina la svolta in panchina, il nuovo tecnico riparte dal 3-5-2, domani con il Fano. Però problemi di formazione, il tecnico Zichella, la sua reazione è stata con il silenzio, nessuna dichiarazione ma tecnico amareggiato per la decisione del patron Campitelli. E poi la Serie D, la vastese sceglie Montani per sostituire Palladini, oggi ci sarà l'ufficialità, vi avevamo già anticipato questa notizia nel corso dell'appuntamento di domenica con Diretta Stadio e poi con l'Abruzzo del Pallone, proprio con collegamenti in diretta da Vasto al 91esimo della gara pareggiata dai Biancorossi con il Forlì Montani che esordirà domenica nella gara di Iesi. E poi il campionato di eccellenza, Capistrello non si nasconde, io dice se restiamo lassù, mentre il direttore sportivo del Chieti Trovarello dice che la squadra con il nuovo allenatore Lucarelli è più cinica. Andiamo a vedere un'altra pagina di sport che riguarda il centro e i protagonisti del calcio giovanile, in questo caso in evidenza Pucetta e Silvi. Parliamo di basket, la rivelazione della Serie 2 in Casa Roseto e Rodriguez il play preso dalla B che sta trascinando gli Sharks, vittoria nella seconda giornata di campionato con Cagliari. E da un derby all'altro tocca Chieti Pescara, Serie B patron Marchesani, applaude il pubblico teatino di Fabio Loda Caverni e Micevic. E l'Abruzzo trionfa al torneo delle regioni di calcio a 5, Fisdir un altro trionfo per la nostra regione nel calcio a 5, grazie soprattutto a quello che sta facendo l'Acqua e Sapone in questa stagione, soprattutto quello che ha fatto nella passata stagione con la conquista del Tricolore. Ma noi torniamo a parlare del Teramo, Teramo in vetrina proprio nella giornata di ieri ma anche oggi perché oggi ci sarà la prima vera giornata da allenatore del Teramo di Maurizzi. Maurizzi ha la prova a Teramo, emozionato domani il Fano, presentato un nuovo tecnico, penso solo al presente, c'è da lavorare Capaldi e Federico, le sonoro di Zichella. Una scelta condivisa, ma noi lasciamo lo spazio alle parole dei protagonisti nel servizio di Jacopo Forcella. M. Maurizzi benvenuto a Teramo. L'entusiasmo non sarà un percorso semplice, sarà all'astrecato di molte insidie, però l'entusiasmo che abbiamo visto, che l'ha accompagnata anche nella conferenza stampa, è già una buona notizia per i tifosi del Teramo. Ma intanto l'entusiasmo è contagioso, tutti dobbiamo essere contagiati dall'entusiasmo, ma come il pessimismo è contagioso. Io credo che bisogna guardare con ottimismo alla vita, perché la vita è una, anche la vita sportiva è una, l'anno calcistico è uno, nessuno ci fa ripetere la partita è una, nessuno ci fa ripetere una gara sicuramente dopo averla giocata. Quindi dobbiamo giocarla al massimo, con il massimo entusiasmo, io credo che con l'aiuto da parte di tutti riusciremo a fare qualcosa di importante. Come si concilia una squadra che ha come obiettivo la salvezza con un atteggiamento che deve essere propositivo e di cercare di padroneggiare la partita? Sono due modi inconciliabili oppure no? Ma io non credo che si possano scendere il trasporto emotivo, rabbia agonistica, furor agonistico, sangue agli occhi, fuoco, tutte le frasi che sentite dire normalmente e non si conciliano con gli aspetti tecnotattici secondo quello che vogliamo fare. L'importante è essere ben consapevoli di quello che vogliamo fare, la consapevolezza credo che sia il primo principio dell'essere umano. Le chiedo che impressione ha avuto del Teramo che ha visto contro i Rimini? Buona squadra, ottima, buona squadra. E allora una domanda sul prossimo avversario perché è chiaro che questa è una settimana congestionata di impegni, non ha neanche il tempo di acclimatarsi che già subito la doppietta Fano e poi Monza. Restiamo a Fano, è uno scontro delicato anche se siamo ancora in inizio torneo. Ma intanto non c'è da fasciarsi la testa, nel senso che mancano talmente tante giornate alla fine che quindi non diventa una partita della vita, anche se poi per il mio modo di vivere tutte le partite sono una partita della vita. Quindi la settima, la settima o la quindicesima, Fano, Pordenone, San Betetese, qualsiasi squadra, faccio dei nomi a caso, non me la voglia nessuno, qualsiasi squadra contro qualsiasi avversario c'è da fare la partita della vita. Si aspetta mercoledì sera contro il Fano, visto che c'è una novità, la sua presenza in panchina, si aspetta anche entusiasmo da parte del pubblico del Bonolis? Sì, ma le aspettative vanno... è meglio non aspettarsi... Non le piacciono. Non mi piacciono, esatto, è meglio non aspettarsi nulla, ma io sono molto fiducioso che il pubblico, che i diffusi del Teramo seguano con il trasporto di questa squadra, soprattutto perché questa squadra ne ha bisogno. E dunque un esordio sicuramente non semplice per il tecnico, il neotecnico della formazione biancorossa Maurizzi, domani lo ricordiamo, ne parlava anche Jacopo Forcella nel servizio, nell'intervista al tecnico biancorosso, domani turno infrasettimanale di campionato, con l'esordio di Maurizzi sulla panchina del Teramo, nella sfida con il Fano si giocherà al Bonolis alle 18.30, ricordiamo il Fano guidato dal tecnico pescarese Massimo Epifani. Vediamo altre notizie di sport dal quotidiano La Città, prima di salutarci il basket, in questo caso Roseto è travolgente, Cagliari deve arrendersi, prima vittoria stagionale, ne parlavamo prima per gli squali, che hanno mostrato anche un ottimo basket. E a proposito, tornando al calcio, dal Teramo al Giulianova, Giulianova che raccoglie applausi ma non punti perché c'è stato il secondo stop di fila per i giallorossi, domenica battuti in casa dal Matelica, Giulianova che continua però a mostrare un gioco convincente. Ancora basket, la TASP batte l'Olimpia-Mociano, stirpe, vittoria importantissima per la formazione teramana. Vediamo in basso invece il calcio a 5, per parlare del colpo dell'Aliciani-Teramo, perché arriva Alessandro Ruscioli, la squadra bianco-rossa si assicura infatti uno dei giocatori svincolati di maggior rilievo. Siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6, appuntamento con la nostra rassegna stampa che ovviamente tornerà domani come sempre alle 8. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio Claudio Di Giacomo in regia. Vi ricordo come sempre a proposito di informazione sulla nostra rete alle 14, la prima edizione del TG6. E a proposito di Teramo Calcio, non perdete questa sera davvero l'appuntamento delle 21 in diretta dai nostri studi con Proteramo, con Jacopo Forcella per approfondire ulteriormente il discorso sui bianco-rossi sul Teramo, alla luce dell'esonero di Zichella, dell'arrivo del tecnico Maurizio e della gara del turno infrasettimanale di campionato che si giocherà domani alle 18.30 proprio al Bonolis. Tra Teramo e Fano è davvero tutto, grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.